E invece dicevo, trasmettendovi con l'aiuto dell'ottimo Bianchini, un cartone animato che si chiama Seeing Ghost, guardando i fantasmi, è un cartone animato della notte, molto carino, molto grazioso, una roba fine, dice l'esperto, Paul Terry, che come sapete è una specie di Walt Disney meno famoso ma altrettanto bravo. Di più, anche di più, allora noi prendiamo un attimo di fiato e voi guardate questo Seeing Ghost, per poi telefonare all'appartamento di sopra per favore, grazie, telefona alla nostra amica Rita Vicario che ci sta dando una mano in regia, grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti